Oh, guarda quanto è carino quel bambino, Diego. Non sei contento che farà colazione con noi? Non faremmo colazione senza di lui. Il suo paparino ha fatto fuori metà del nostro branco e usa le nostre pelli per riscaldarsi. Occhio per occhio. Non ti pare? Facciamogli vedere che cosa succede a chi si mette contro le sciapole. Allerta la truppa, attaccheremo all'alba. E Diego, portami il bambino, vivo. La vendetta per gustarla a fondo va consumata fresca. A parte della truppa, attaccheremo a casa. Sì! 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 Ecco Diego! Ripiegate! Dov'è il bambino? L'ho perso le cascate! Lo hai perso? Voglio quel bambino Diego! Lo prenderò! Sarà meglio! A meno che non voglia finire tu al suo posto! Andremo su al mezzo picco! Raggiungicela! E sarà meglio che sia vivo! Ci possiamo fidare di te Diego! Andiamo!